Ciao a tutti, sono qui per provare l'Ardocopter 2.6.1 ho fatto qualche mod in mio quad ho installato l'Ardocopter 3638 motore qui il 3DR radio 433 MHz con il depol ok, ho provato una semplice con due punti di passaggio e il Rathom 2 Home è un triangolo il primo punto di passaggio è in questa direzione a 3.000 metri l'altro in questa direzione a 3.000 metri ok ok dopo la scuola ho messo i miei radiosi sul terreno nel punto di passaggio scuola il motore è armato ok 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 è un'estabilizzazione ok 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 auto on radio on the ground ok ok auto on radio on the ground che non ci sta vai wow where is my quad it's a little dot in the sky scherz 2 ore 2 ore 2 ore di vola 2 ore 2 ore è presente che il blad non veniva più giù ok 1st waypoint now go 2nd waypoint in direzione Poi ha rischiato di farciare una mucca. Si vede? No? Fuoco. Tengo sgumato più che poi, se mi rimane fuoco, un po'. Mi sposto, gradamente fa fuoco più di me. Ok, secondo punto, ora vado a casa. La velocità è 5 metri per seconda. Non è inoltre di volo. La batteria è più difficile. La tua due? La tua due? Pesa no. Una tracena da 3.000. Una tracena da 3.000. Pesa un 7.5, 7.5. Un 6.5. Un 6.5. Un 5.5. Un 6.5. Un 7.5. Un 6.5. Ok, ora è inoltre da casa. Ok, e ora il quadro approccio è a 7-8 metri Start to descend slowly ora il quadro è in loiterato a 6-8 metri dal grado guardate il quadro e il radio, il radio è in l'ordine di casa c'è un piccolo movimento in loiter, non over 1 metri dal grado è molto, molto bene qui c'è un quadro 2-2 ok, 1 metri ora, a destra e ora il radio ora provo un'autolotazione con il mio quadro con il trattolo a zero ok, stabilize non va a tenere ricordato il quad ok stop ora, zero trattolo però, avere qualcosa di scritto che esiste, guarda, se non senta facile, quello che ci interessa questo, questo, questo questo, questo, questo non è un'altra e try again io lo rendo accattivante diventa una cosa molto immediata zero trattolo se lo vuoi acquistare digitale ci puoi mettere dentro i filmaggi i link ai filtri, delle fotografie se invece lo vuoi stampare c'è la versione testo e immagini a colori perfetto grazie per la visione ciao